ma che stai facendo scusa ehi sei ridicola guardati ma come ho appena aperto il nostro profilo su musical.ly su musical.ly si guarda guarda e perché non mi hai detto niente solo che ancora non ho ben capito come funziona non so cosa dovrei fare come dovrei muovermi dovresti muoverti cioè tu farei così tutto il giorno io lo farei anche tu io no io no si invece no non mi rendo ridicolo come te ragazzi io non corrispondo per quello che fa è completamente impazzita e comunque io sono eric e io sono dominique e siamo insieme dai fai vedere a me come funziona vieni com'è che funziona questa cosa allora io clicco qui e devo ballare a te guarda devo ballare si ma penso che il tuo ballo dovrebbe avere un senso ha un senso mi sto muovendo a tempo ma no ti stai muovendo a caso ma smettila non si fa così vabbè basta dai lo faremo magari un altro giorno quando prima avremmo capito come funziona allora vieni qua abbiamo tantissime altre cose da fare oggi oggi grande momento di creazione noi fare grande cosa si abbiamo deciso di fare per la prima volta il fluffy slime un grande fluffy slime ce l'avete chiesto in tantissimi e vogliamo provarlo per la prima volta insieme a voi non vediamo l'ora di fare questo foscio di si grande fluffy slime dai torna qui ancora non siamo pronti per fare il fluffy slime ci servono gli ingredienti tanti ingredienti andiamoli a comprare ciao questo serve per il fluffy slime non credo siamo tornati ciao e abbiamo comprato tutta la corrente allora abbiamo preso colla vinilica colla trasparente schiuma da barba pubblicità soluzione per le lentine e un po' di colorante alimentare e questi cosi no questi non li abbiamo comprati tutti no questi li avevamo cominciamo per prima cosa mettiamo la colla vinilica si si apre si apre si 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 non sporcare il mondo noo guarda 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 come danza guarda come danza mi fai spazio anche a me si ma la cora trasparente mi sono incollato si è mio giusto? no è mio perché lo farò il rosa sono solo mio io lo volevo un blu mescolo io io che cosa faccio? guardi andiamo a mettere un pizzico di colorante manciglie manciglie facciamo un piccione cattiva ah si cattiva aspetta forno ti voglio mettere il colorante molto poco perché è un colorante molto scuro l'interno dovrebbe essere il rosso ma è molto molto scuro stiamo con questo si si sta colorando CRANTE FASFLY ma è un colore bellissimo è fantastico questo colore guardate guardate è proprio un colore bellissimo andiamo a mettere il gel da barba invece della schioma andiamo a mettere la soluzione per le dentine è un poco poco di carbonato non troppo non troppo proviamo così vediamo che succede ma secondo te ce la faremo non lo sappiamo non lo sappiamo al massimo ancora bicarbonato sarà un pallimento o al massimo ancora bicarbonato ma è rimasta ancora colla facciamo la Toslime azzurro poi vediamo ma secondo te ce la faremo io comincio a nutrire qualche dubbio sta combinando comincia a prendere un poco forma ma ancora bicarbonato aspetta col bicarbonato senti senti fa il bollicino comincia a fare il rumore di slime ma diventerà mai un slime allora ragazzi adesso mettete i video in pausa e fateci sapere se secondo voi riesce lo slime o non riesce qual è il più quotato secondo te non lo so secondo me no fatecelo sapere lo scopriamo tra poco basta solo sta guarda si piano non così forte ma non più piano guarda 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 vediamo cosa fare l'online dai forse 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 ce la facciamo dai che forse te la facciamo così ci fa io non stai riuscendo sta riuscendo si può fare grande forse è arrivato il momento di continuare a farlo un po' con le mani guardatelo lavoriamolo un poco è ancora un po' più non è niente non è niente ma forca questo è un altro poco di di carbonate guardate è bellissimo anche se è ancora un po' troppo liquido hai perso un pezzo di slime non ci vedremo da vicino guardatelo è una cosa troppo bella fa rumore lo senti? lo sentite voi? lo sentite? è il nostro slime è pronto complimenti a chi aveva detto che riusciva ha tanta fiducia in noi fateci sapere cosa ne pensate e magari suggeriteci voi qualche altra ricetta perché noi veramente è la prima volta che lo facevamo magari ci suggerite un'altra ricetta e la proviamo ok forse non è esattamente il mio slime che abbiamo visto no però è indubbiamente un colore bellissimo e fa odore è un colore bellissimo forse poteva riuscire meglio ma non siate troppo cattivi con noi è la prima volta che lo facciamo magari piuttosto suggeriteci che cosa magari abbiamo sbagliato o cosa potevamo fare in modo diverso o qualche altra ricetta però il colore è bello sicuramente ci riproveremo ok? ok slime no colla slime no schiuma da barba slime si sa solo cosa non è ok ora è molto più chiaro si può fare ed è arrivato anche oggi il momento dei saluti saluteremo come sempre alcuni di voi che ce l'hanno chiesto salutiamo Doriana Romana Luca Chierenza Sofia Sacchetti Sara Scarpiniti Anna Pia ed Arcangela ciao ragazzi salutiamo sempre tutti quanti esattamente mi raccomando scriveteci nei commenti iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate like e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao ciao siete così bravi da riuscirmi a dire quante volte durante il video Erik ha detto bicarbonato o ancora bicarbonato ciao ragazzi vi lascio con una foto inedita di Erik grazie a tutti Grazie a tutti.